La questione principale è che quest'anno è l'anno europeo del turismo di ritorno delle radici, è l'anno europeo e noi abbiamo pensato di affrontare questo tema con l'associazione BLAS del Brasile. In particolare speravamo che finora ci fosse già un dialogo più serio o più costruttivo tra le associazioni, le regioni e il governo. Il governo italiano finora ha scontato soltanto i comuni ma si è dimenticato dell'impegno di centinaia di associazioni che da 50 anni lavorano per aiutare gli italiani che sono all'estero. E' una cosa scandalosa che il Comune, lo Stato, il Ministero degli Esteri ha convocato i comuni e non ha convocato finora nessuna associazione. Tra l'altro hanno mangiato anche dei coordinatori regionali, cosa impropria, e il coordinatore nazionale ma finora questa attività non si è mai svolta insieme all'associazione. Io scriverò proprio nei prossimi giorni una lettera al Ministro per dire che non è una cosa fatta bene perché le associazioni sono coloro che da tanti anni hanno rapporti con gli italiani all'estero e delle occasioni importanti per stimolare il loro rientro eppure per pochi giorni in Italia per vedere la sede, il proprio Comune, il Comune di Nascita, eccetera. Comunque speriamo che questa sollecitazione serva. Abbiamo mandato anche una lettera con altri associazioni, però finora non abbiamo avuto niente di particolare. Ecco, io ringrazio di nuovo la dottoressa Letizia Sinisi, le cedo la parola e mi riservo durante o dopo il suo intervento di commentarlo insieme per valutare e sottolineare gli aspetti più importanti del suo intervento. Grazie. Letizia, la te la parola. Grazie. Grazie Presidente Abbati, grazie Dottor Garofalo e con cui abbiamo una collaborazione, insomma abbiamo anche una comunanza di vedute. Allora, io poi sono tra l'altro di origine pugliese e quindi mi sento a casa nella Puglia Brass. Allora, oggi vedremo, perché chiaramente in pochissime ore si può fare formazione, ma si può fare principalmente informazione, perché su questo tema, come diceva il Presidente, diciamo che ci sono vari livelli di preparazione, di informazione. Quindi cercheremo di dare una visione che consenta a tutti voi qui presenti di avere dei stimoli, delle suggestioni, ma anche di poter calare quelle informazioni ricevute sul proprio ambito di attività, per poi eventualmente andare così ad approfondire. Allora, chi sono? Mi presento molto velocemente. Io, diciamo, vengo da un'esperienza ventennale in multinazionali con ruoli dirigenziali, perché dico questo? Perché ho con me, diciamo nel mio bagaglio, una formazione molto legata alla progettualità, all'azienda, quindi diciamo all'agire in maniera molto strutturata. Poi nel 2011 ho conseguito un master in destination manager e sono entrata nel grande mondo del turismo. E prima di tutto ho cercato di comprendere quello che vivevano gli italiani all'estero creando un gruppo con dei rappresentanti nei vari continenti di emigrazione, perché da italiana io avevo una storia di emigrazione e pensavo che tutti gli italiani all'estero fossero in un unico bacino, tutti uguali, con le stesse caratteristiche, con lo stesso vissuto, eccetera. Per poi scoprire in realtà che non era così, perché le storie di emigrazione sono sempre diverse e anche le storie di emigrazione nei vari continenti, cioè se qualcuno di voi è in Australia e qualcun altro in Argentina, saluto la Patagonia che ha mandato un messaggio, sicuramente le storie sono molto diverse. Ho iniziato così a studiare il fenomeno e soprattutto sono partita dalla mia terra di origine per mettere su un modello organizzativo di ospitalità e di accoglienza basato proprio sulle caratteristiche che vedevo dover essere quelle di un'accoglienza di chi tornava e nel 2018 il Ministero degli Esteri ha organizzato un tavolo di lavoro, sono entrata molto felice di questo perché finalmente si parlava di questo tema e nello stesso tempo ho messo giù dei prodotti, dei servizi molto durati che ho claudato nel campo, sul campo direttamente, oltre ad un'accademy internazionale dove gli stessi ambasciatori all'estero sono anche docenti e da quest'anno anche una consulenza con Confomercio e con la più grande organizzazione di viaggi Destination Italia, sempre per quanto riguarda le radici. Fondamentalmente durante il lockdown ho preso l'opportunità di una crisi fortissima che abbiamo vissuto nel turismo e ho scritto questo manuale che ad oggi è l'unico manuale per operatori, quindi non è uno studio accademico anche se fa riferimento a molti studi che ci sono stati negli Stati Uniti sul fenomeno del turismo delle radici, anche in Irlanda, in Scozia per quanto riguarda i paesi europei che sono speciali in questo tipo di turismo. ma è scritto proprio per gli operatori, è scritto per gli operatori pubblici e privati, perché non si può fare accoglienza dei viaggiatori delle radici se non si lavora insieme come comunità, perché loro fondamentalmente, lo vedremo, vogliono ritrovare casa, vogliono sentirsi accolti come uno di noi, quindi non sono viaggiatori qualsiasi. E il motivo per cui ho usato la parola routing, lo vedremo adesso nel corso delle slide, è proprio perché si va oltre il turismo, non è un nuovo trend, un nuovo tipo di turismo su cui ci si informa e finisce lì, è un'andata e un ritorno, ma è un ritorno principalmente. Quindi, come ho già detto, abbiamo un laboratorio internazionale specializzato nella valorizzazione territoriale, nella formazione del turismo delle radici e anche nell'italicità, ambasciatori nei vari continenti, sia europei che estereuropei, e circa 15 docenti, esperti e consulenti in tutto il mondo e anche figure esperte in Italia. Il lab internazionale, come vediamo, riguarda Nord America, Canada, Australia, questi sono tutti i paesi in cui siamo presenti, praticamente in tutti i maggiori continenti. Andiamo direttamente a vedere cos'è il turismo delle radici. Io ho questa slide intitolata Uno, Nessuno, Centomila, perché ognuno un po' dà una definizione. Allora, intanto io vorrei condividere con voi il fatto che è turismo ufficialmente, cioè formalmente è turismo, perché riguarda uno spostamento con dei pernottamenti, quindi rientra nel turismo. Ma è un fenomeno turistico-culturale. Perché? Perché fondamentalmente è sempre esistito questo movimento di ritorno alle radici. Come sono sempre esistite le migrazioni. Quando c'è una migrazione, che sia dal sud Italia al nord Italia, sia dall'Italia all'estero, o dall'estero in altri paesi, quando si emigra, si ha voglia a un certo punto anche di ritornare. C'è sempre un ritorno temporaneo o permanente. Questo è di nicchia diffuso, cioè è un turismo che, diciamo, considera e coinvolge principalmente i piccoli centri. Quindi è diffuso, perché abbiamo più di 8.000 comuni, e quindi è diffuso perché li riguarda quasi tutti, perché partivano dai piccoli comuni i nostri emigrati. E porta, riguarda i visitatori che vogliono conoscere i luoghi di origine, le loro famiglie, vogliono rientrare in contatto con i propri parenti, il che significa che è caratterizzato da un senso di appartenenza e di identità. Che vuol dire questo senso di appartenenza? Quando si ritorna, e qualcuno di voi che è all'estero, penso lo abbia provato, o sente questa appartenenza, in qualche modo è che chi è andato via ha lasciato un pezzo di sé nella terra da cui è partito. Quindi chi ritorna ha un senso di appartenenza perché è come se avesse un'eredità lì. Cioè l'eredità non è solo un palazzo, una proprietà fisica, ma un pezzo della propria storia. E quel pezzo della propria storia è comune a tutti noi. Cioè anche noi in Italia abbiamo la stessa memoria storica, abbiamo la stessa storia. Quindi non possiamo parlare di noi e voi. Parliamo di noi e di una identità che è comune in qualche modo per chi arriva nelle proprie radici, per chi è presente, che per chi accoglie, la vive ogni giorno. Quindi la qualità di questa offerta deve essere altissima perché è un momento speciale quello in cui si ritorna e va curato in ogni suo aspetto. E questo turismo delle radici può essere anche esteso alle radici culturali, cioè ai cosiddetti italofili, anche se non si ha origine biologica, genetica italiana, ma si è fortemente attratti dall'italicità, da tutto ciò che è italiano, quello che si chiama soft power italico. E tutti coloro che amano il nostro paese, alcuni mi hanno scritto che si sentono aspiranti italiani. Quindi non hanno nel loro DNA Italia, ma si sentono aspiranti italiani. Adesso facciamo un giro del mondo. No, gli italiani circolano nel mondo. Ancora adesso ci sono flussi migratori, vanno negli Stati Uniti, sono andati negli Stati Uniti e continuano ad andare negli Stati Uniti. Guardate quanti stati ci sono. Quindi quando si arriva in un paese, si trovano delle altre culture, si trovano delle altre tradizioni. Il Canada, guardate quanti stati, in Sud America, ogni paese ha la sua peculiarità, la sua unicità. Quindi gli italiani sono andati in tutti questi stati e hanno portato qualcosa di loro e hanno trovato una cultura differente. Quindi c'è sempre questa commissione e gli italiani in qualche modo adesso sono sparsi per il mondo. Questa italicità che è già da Leonardo, diciamo partiva o comunque partiva dai Romani, che diventa un po' radice, un po' del mondo, di tante scoperte, di tante invenzioni, è andata in tutto il mondo. E quindi da tutto il mondo c'è questa ammirazione o questo desiderio di tornare, da cui deriva la centralità del turismo delle radici. Quindi non è un viaggio di andate e ritorno, come si diceva, ma è un movimento, un forte fenomeno culturale che coinvolge, abbiamo visto, abbiamo sentito, i ministeri, l'ENIT, le università, le camere di commercio, perché può incentivare gli scambi commerciali, le regioni, la stampa, il Comitato Generale degli Italiani all'estero, ma ancora più vicino a noi, nei territori, la politica, i mercati, il capitale umano, la ricerca, le università, per esempio, no? L'impresa, cultura, la finanza. Quindi è un movimento centrale, non è solo viaggio, è un fenomeno socioculturale. Se andiamo a guardare la generazione degli orienti, dobbiamo necessariamente distinguerla. Cioè, adesso andando in sintesi, sono, è importante tenere presente due elementi, la generazione e la motivazione. Quindi, i primi, la prima generazione, sono gli emigrati all'estero. Per quanto riguarda gli italiani, cioè noi, quando parliamo di prima generazione, noi consideriamo coloro che sono emigrati. Invece, la prima generazione all'estero è considerata la prima generazione che nasce in quel paese, che per noi è seconda generazione. Guardiamo da punto di vista Italia, no? Allora, prima generazione sono gli italiani che sono emigrati. La seconda generazione possiamo considerarli italo-americani, italo-tedeschi, perché ancora hanno il legame con l'Italia. Dalla terza, quarta generazione in poi, non parliamo più di italo qualcosa, ma parliamo di americani, tedeschi, eccetera, di origine italiana. Cosa significa questo? Che le nuove generazioni non rinnegano la propria origine, ma sono decisamente più legate al paese di residenza, perché sono nati lì ormai da due, tre generazioni, quindi hanno messo le radici lì, ma sanno che nel loro sangue, nella loro cultura c'è l'Italia. Per cui quando arrivano le nuove generazioni, dobbiamo necessariamente considerarle in maniera diversa da chi invece ricorda i nonni, ricorda i bisnonni, cioè continua ad avere un contatto diretto. Quando arrivano americani, tedeschi, dobbiamo modulare la nostra accoglienza, conoscendo bene la loro cultura, perché non arriva un italiano, arriva qualcuno che ha delle caratteristiche legate alla propria cultura. Il fenomeno del turismo delle radici interessa tutte le regioni italiane, come vediamo. Questi sono dati Aire e Istat del 2020. Diciamo che se guardiamo anche quelli del 2022, anche quelli più recenti, la situazione è molto semplice. Questa è una slide che ho voluto presentarvi per vedere come non c'è regione che non sia interessata dall'immigrazione. Certo, i numeri più bassi ce l'ha la Valle d'Aosta, ma anche più piccola, ma non c'è regione, nessuna regione, da cui non parta qualcuno.